Nel corso dedicato al cosiddetto BIOD, che è l'acronimo che sta per Bring Your Home Device, porta il tuo dispositivo, vedremo innanzitutto di cosa si tratta quando parliamo di questa metodologia. È innanzitutto una pratica che non nasce a scuola, nasce in ambito aziendale e ha un obiettivo dichiarato. L'obiettivo è fare in modo che l'utenza adopri i propri dispositivi. Quindi questa pratica non nasconde la sua finalità prima e direi più importante, che è quella di fare economia. Una scuola che non dispone spesso di mezzi da dotare agli studenti, ma che è contemporaneamente frequentata da ragazzi che in tasca possiedono strumenti che hanno la potenza di un PC fisso. Quindi hanno una potenzialità informatica, una potenza di calcolo necessaria a tantissime operazioni didattiche che richiederebbero sforzi economici da parte dell'amministrazione non sempre sostenibili. Con questa modalità quindi l'obiettivo è usare risorse di cui in qualche modo la società ha già coperto i costi, società privata quindi non pubblica amministrazione. E poi, ed è l'aspetto che a noi interessa maggiormente in quanto siamo in un ambito non aziendale, ed è quello di disinteressarsi dello strumento che produce i contenuti, che sia un computer, un portatile, un fisso, un tablet, uno smartphone, e di concentrarsi naturalmente sul contenuto e non sul device che sta dietro e che lo produce. Come fare Biod a scuola? Naturalmente occorre inizio il consenso delle famiglie perché se poniamo l'utilizzo dello smartphone, beh, questo in alcune scuole non è concesso, non è permesso, e quindi occorre far presente alle famiglie questa possibilità. Poi occorre come sempre progettare un intervento mirato, non è possibile farne un uso indiscriminato, quindi occorre disciplinare l'uso di questi strumenti e poi sarebbe opportuno anche fare in modo che la connessione all'internet, perlomeno per quei momenti in cui è previsto il progetto, sia aperta, accessibile da parte degli studenti. Questo forse è uno degli aspetti più delicati in quanto le connessioni internet wifi, che ora sono abbastanza frequenti nelle scuole, sono normalmente chiuse, perlomeno ufficialmente chiuse agli studenti. Invece sarebbe opportuno fare delle aperture di queste finestre di dati per fare in modo che gli studenti che già mettono a disposizione il loro device si appoggino quantomeno alla banda, alla connessione della scuola. Quali sono i vantaggi di questa pratica? Naturalmente il primo è il risparmio economico ed è forse il più importante. Il secondo è quello che nessuno, anche grazie, soprattutto direi grazie ai propri strumenti e anche a quelli eventualmente messi a disposizione della scuola, perché non sempre le scuole non dispongono di nessuno strumento, talora sono presenti solo un numero limitato, pensiamo ai computer portatili, sono resta escluso dall'uso delle tecnologie e dei media, che siano personali, ovviamente che siano anche della scuola. Poi, questo è un aspetto abbastanza interessante, questa pratica in qualche modo accelera anche il lato docente, l'innovazione tecnologica, perché mette in un piano di lavoro, docenti e alunni, che utilizzano strumenti diversi per raggiungere un obiettivo, che so, la formulazione di un testo scritto, di un'immagine, di un video. In quella maniera è molto proficuo lavorare su piattaforme diverse, perché si favorisce l'interscambio verticale-orizzontale, quindi alunno-alunno e alunno-docente, che l'uso di un solo dispositivo invece non consentirebbe. E poi, non ultimo, viene favorita anche la responsabilizzazione degli studenti, perché si trovano ad utilizzare, per una finalità diversa da quella privata personale, uno strumento in loro possesso. Cosa vedremo in questo corso? Innanzitutto come progettare un modulo, perché anche in questo caso, come per altre metodologie, non possiamo parlare di una prassi quotidiana, bisogna individuare dei momenti, dei moduli appunto. Poi vedremo anche come caricare dei materiali online accessibili, perché il BIOD consente l'utilizzo di uno strumento personale, per lo più per accedere a dei contenuti ed eventualmente modificarli, ma quei contenuti devono essere caricati inizialmente online, per lo più dal docente. Vedremo come e dove caricarli. Vedremo poi come usare degli strumenti di condivisione, perché è indubbio che possiamo usare un tablet, uno smartphone, un computer, ma è estremamente utile lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, altrimenti il rischio è un disordine informatico che poi difficilmente il docente potrebbe disciplinare. Quindi è opportuna la diversità dei media, ma è altrettanto necessaria, l'univocità del file su cui si va a lavorare, in singolo o in gruppo. Impareremo anche, un altro aspetto, a prescindere dal mezzo, dalla marca, dal mondo, dall'ecosistema, che sia Apple, che sia Android, che sia Windows, che sia Linux, su cui siamo abituati a lavorare. E questo è possibile anche grazie al fatto che oggi molti dei dati si stanno spostando sulla nuvola, sul cloud. Installiamo sempre meno software, ma ci iscriviamo sempre più servizi, il che vuol dire che i dati stanno sempre meno nelle nostre macchine. Nelle nostre macchine ci sono dati di accesso per accedere ai nostri documenti, che sono però altrove. E in questo modo noi prescindiamo dalla macchina, dalla singola postazione, e lavoriamo sui nostri contenuti che sono online, secondo appunto il principio del cloud. Cosa è necessario? Indubbiamente in questo caso una postazione fisso portatile, un tablet per esempio, anche uno smartphone, per anche simulare quella che può essere la dotazione degli studenti e poi indubbiamente una connessione ad internet. Gli strumenti online che vedremo molto utili per questa metodologia sono CAUT, Quizzes, che somiglia molto a CAUT, Socratip.com, sono dei siti che consentono di fare dei quiz interattivi in tempo reale, ai quali si può accedere tramite un codice. Non importa che l'utente sia di fronte a un computer, di fronte a uno smartphone, di fronte a un tablet. L'importante è che disponga di una connessione ad internet e di uno strumento che possa dare input, cioè possa dare per esempio risposte attraverso la pressione di tasti come il tastierino numerico. Poi vedremo gli strumenti cloud principali, che sono Dropbox, Box o anche Google Drive. Poi anche altri strumenti estremamente utili nell'ambito della verifica come Questbase, Google Moduli o Padlet, che si prestano molto bene a una condivisione in tempo reale di uno spazio di lavoro, in particolare Padlet. In questo caso sono necessarie 6-9 ore per un numero totale di 2 o 3 incontri.